Il 5, 6, 7 settembre 2019 al Vittoriale si terrà un grande convegno sul centenario di fiume. Questa impresa danunziana ancora non abbastanza studiata, o meglio studiata male, la vulgata vuole che sia stata un'impresa fascista, che da un altro fosse fascista, gli storici sanno che non è così, ma bisogna diffondere questa acquisizione storiografica a tutti. Il convegno servirà a fare il punto, è un grande convegno internazionale, il più grande mai tentato su questo argomento, verranno studiosi anche dagli Stati Uniti, ma soprattutto verranno studiosi croati. Il convegno è dedicato all'identità europea, cioè cercheremo di realizzare una storia condivisa, di confrontare i punti di vista, quindi una novità importantissima. Arrivano studiosi specializzatissimi, giovani anche, con un apporto nuovo di forze e il convegno si concluderà con una tavola rotonda fra il professor Serra, Maurizio Serra, il professor Galli della Loggia, ci sarò anch'io naturalmente, ci sarà il professor Perfetti, altri studiosi importantissimi. La serata poi del 7 si concluderà con lo spettacolo il piacere al laghetto delle danze, quindi divertimento, studio e bellezza, come sempre al Vittoriale.